Sì, esatto, esatto. Quindi partiamo con l'interrogazione del gruppo consigliare Castelnuovo nei cuori sulla mancata sospensione dell'utilizzo dei diretti di esigenza breve. Non l'abbiamo ancora fatto, però sarebbe opportuno, ma per una questione così pratica, di lasciare spazio a delle brevi comunicazioni anche dei capi gruppo, subito dopo quelle del sindaco. Se era possibile, sono breve note di tecniche, diciamo così, o informazioni informali piuttosto. Permetti, allora posso prendere la parola? Lo prevedo, questo. Intanto che verifichiamo, tanto lo facciamo, poi dopo non è un problema. Si tratta di questo, riguarda la mozione che abbiamo votato l'unanimità per quanto riguarda la tomba di Benevelli. Sì. Ho avuto modo oggi di parlare con il marmista, che mi ha detto che non si è mosso nulla ancora. Quindi chiedevo al sindaco se ti sei attivato in questo periodo. Era intenzione, mi sembra che dalla parte della famiglia ci sia un po' di molta calma. Il marmista a questo punto, siccome aveva un rapporto privilegiato con Benevelli, di sua iniziativa con uno dei marmi lasciati da Benevelli vorrebbe incidere almeno il nome, in modo che per la ricorrenza dei morti sulla tomba ci fosse almeno il nome con la data di nascita di morte di Benevelli. Questo lo fa di sua spontanea volontà senza nessuno. Quindi, e chiedevo, siccome avevamo votato, non so se ti ricordi, ma nella mozione c'era la collaborazione anche dei capi gruppo, se ci sono degli incontri e pensi che sia necessario o che sia utile, ci puoi avvisare che verremo volentieri. Tutto qua. Ci siamo già mossi e appunto se il vice sindaco informa gli accordi, cioè gli incontri, ma non è stato un incontro, ha cominciato a sondare la disponibilità. Dovremmo fissare un incontro a breve con gli eredi, abbiamo sondato alcune disponibilità. Adesso non posso dire in questa sede che cosa mi hanno detto, perché sono cose private. Abbiamo anche colloquiato con alcune persone molto amiche in vita di Giorgio, che si sono rese disponibili anche rispetto a seguire quelle che sono le indicazioni di Giorgio sulla sua tomba. e quindi stiamo mettendo in fila tutte le cose. Non è una situazione così, come dire, rapida come uno potrebbe sembrare, perché, ripeto, c'è qualche divergenza di vedute fra gli eredi e chi vorrebbe procedere speditamente rispetto all'allestimento di una sepoltura, che dovrebbe essere come quello che lo scultore, l'artista ha chiesto, ma rispetto alla quale noi dobbiamo prima trovare un accordo fra gli eredi. Non possiamo fare una cosa che loro non condividano, quindi dobbiamo trovare un punto di incontro. Va bene, la nostra disponibilità c'è da partecipare agli incontri. Bene, grazie. Quindi procediamo col punto 2, interrogazione del gruppo consigliare che sanno nei cuori sulla mancata sospensione dell'utilizzo dei letti di degenza breve. Espone il capogruppo. Buonasera a tutti. Oggetto, interrogazione, mancata sospensione dell'inutilizzo dei letti di degenza breve. Il gruppo consigliare Castelnuovo Necuori invia la presente interrogazione con preghiera di inserimento nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Promesso che l'ospedale Sant'Anna è il presidio sanitario più importante, nonché l'unico di un territorio vasto a 800 km2, di vitale importanza per la salute dei cittadini della montagna e per il mantenimento dell'equilibrio socio-economico della vita in Apennino. L'ospedale Sant'Anna è stato oggetto negli ultimi anni di importanti investimenti economici per la ristrutturazione di diverse aree riservate alla degenza e agli uffici. L'ospedale Sant'Anna è altresì stato oggetto di una notevole e negativa trasformazione dei servizi erogati. Chiusura punto nascita, sospensione guardia ginecologica, sospensione guardia ortopedica, solo per citare le sospensioni degli ultimi due anni. Considerato che, essendo state sempre più insistenti, le voci di una non riapertura del servizio letti di degenza breve, voci confermate dopo che ne abbiamo dato conoscenza ai cittadini tramite la nostra pagina Facebook e successivamente tramite gli organi di stampa, che l'azienda AUS del Santa Maria ne ha dato conferma, senza tuttavia specificare se e quando sarà ripristinata, chiede all'amministrazione comunale se e quando riaprirà, come viene impiegato il personale normalmente impegnato in degenza breve, come pensa di agire l'AUS per contrastare la mancanza ormai certa degli anestesisti, la Giunta pensa di confermare il giudizio positivo sulla gestione pubblica del Sant'Anna, l'AUS è un'azienda pubblica, l'amministrazione nella persona del Sindaco Bini o del suo delegato alla Sanità dottor Boni intende farsi garante per la trasparenza e tempestività delle informazioni riguardante ogni cambiamento di servizio nei confronti del cittadino? Poi ho inviato il giorno dopo un'integrazione, un'altra domanda, come l'amministrazione intende accertarsi e risolvere il problema che si è venuto a creare con questa chiusura. Di fatto, oltre a prolungare il periodo di ferie, ci chiediamo se siano forzate, di due infermiere e di due OSSE, influisce negativamente anche sull'operatività del personale di chirurgia in quanto all'occorrenza i letti vengono utilizzati per i pazienti chirurgici nel momento in cui il reparto è al completo e c'è una necessità. Grazie. Risponde il capogruppo, delegato alla sanità Carlo Boni. Sì, ce l'ho fatta. Allora, niente, due precisazioni, ma così, solo per essere così puntuale. La digenza brecce non è un reparto, sapete, è una sezione multidisciplinare. Questo reparto in estate, come saprete, viene sempre chiuso per ragioni di ferie, per ragioni di carenza personale, regate alle ferie. Qui il problema è sempre il solito, che voi conoscete bene, che c'è una carenza di anestesisti che è circa il 30% dell'organico previsto in provincia. Questa carenza ha determinato la chiusura della digenza breve. ora, non è stata riaperta per questa ragione. Quello che si fa in degenza brecce, lo sapete, sono pazienti che vengono dimessi in giornata, cioè per interventi, diciamo, di bassa complessità e che quindi vengono dimessi in giornata. L'USLA ha attivato delle convenzioni con il Policlinico di Modena, con l'ospedale di Sassuolo e con il Rizzoli di Bologna per avere qualche anestesista in più. Questo purtroppo però non ha sanato la situazione. Ha attivato dei concorsi per anestesisti, non si prevede che neanche questo potrà dare una soluzione al problema. Attualmente i pazienti che necessitano di questi tipi di interventi, per questi tipi di interventi vengono utilizzati letti di chirurgia ordinaria. Quindi diciamo che di servizio al momento non è dato essere. Ecco, quando riaprirà la digenza breve, questo non è dato sapere, perché dipenderà dal numero di anestesisti che si riuscirà a reclutare e reperire. Come intende risolvere il problema l'USLA, sappiamo che il problema è strutturale, non è solo di Castelnuovo, non è solo di Reggio, ma è addirittura della Regione e addirittura del Paese come problematica. Verrà comunque sicuramente riaperti, questi letti saranno riaperti nel momento che la degenza ordinaria non potrà assorbire gli interventi di degenza breve. Il personale viene utilizzato, almeno mi sembra che si chiedesse anche questo, il personale viene utilizzato in parte per il lavoro naturalmente della degenza ordinaria ed in parte sempre all'interno del distretto per servizi del nostro ospedale. Sulla domanda, se intendiamo farci garanti, se ho letto bene, della trasparenza e dei bisogni informazioni, devo dire che anche nell'ultimo incontro, non più di sei giorni fa, che abbiamo avuto con il Direttore Generale degli Ospedali, con il Presidente Manghi e alcuni sindaci, presenti naturalmente alcuni cittadini, alcuni colleghi, al tavolo di confronto sullo stato d'avanzamento del Sant'Anna Plus, anche in quell'occasione abbiamo ribadito l'importanza, anzi la necessità, che tutte le informazioni che noi dobbiamo avere ci vengano date con assoluta tempestività. Tutte, perché oltretutto abbiamo saputo un po' così che in realtà, ad esempio, faccio un esempio, il laboratorio di Castelnuovo ha acquisito 13.000 nuovi esami legati al trasfusionale che da Reggio sono stati trasferiti a Castelnuovo, che non è una notizia di pochissimo conto, vuol dire che comunque questo laboratorio, più che chiudere, avanza, insomma, però anche questo, per quanto fosse un'ottima notizia, non è stata comunicata. Quindi è chiaro che noi abbiamo ribadito e ribadiremo la necessità assoluta di queste informazioni. Poi noi faremo e facciamo, più che da garanti, da controllo o da controllori rispetto a quello che l'azienda USLE fa per il nostro territorio. Quindi non è tanto fare garanti. La USLE non è una controparte, naturalmente, ma è di sicuro qualcosa che va controllato da parte nostra perché quello che è scritto poi dopo corrisponda a quello che concordiamo. In quell'incontro è stata ribadita la fondamentale importanza dell'ospedale di Castelnuovo-Monti nell'ottica di una sanità provinciale. L'assoluta, come dire, inalienabile decisione di mantenere l'ospedale di Castelnuovo ha dei livelli di efficienza tali che garantiscono un'assistenza sanitaria ai suoi cittadini, questo in assoluto, anche di più già oggi è così, ma di più in futuro rispetto a quegli altri ospedali della provincia che andranno evidentemente specializzandosi in qualcosa di un pochino più ristretto. Questo è quello che ci è stato comunicato. Ribadisco che il nostro è una funzione di controllo che continuiamo a fare e faremo, avremo un incontro anche che sarà riconvocato tra non molto sempre con il Direttore Generale degli ospedali e la nostra intenzione è di continuare su questa strada, cioè di garantire, non l'USLE, di garantire il nostro ospedale, per essere chiaro. Poi, devo dire che l'ultima domanda, sinceramente io non ce l'ho e allora non ho capito bene la domanda, insomma. Allora risponde la Sabrina. Esatto, era quella del personale. Sì, no, rispetto all'ultima domanda, allora il personale attualmente viene impiegato in questo modo. Di fatto sono state aumentate le presenze nella dirigenza ordinaria, nel senso che abbiamo potenziato quelle che erano le presenze previste in modo ordinario, le abbiamo potenziate proprio perché prevediamo che il tasso di occupazione dei letti, dal momento che abbiamo accorpato i pazienti, aumenti. Di fatto il personale non è che sia costretto a fare rinforzate, normalmente dà le ferme ad altri colleghi rispetto ad una reautazione pianificata, che è quella da sempre. e sono tutti comunque lavorano presso l'ospedale e danno ferie e malattie ai colleghi, però non rispetto a una, diciamo, rotazione forzata, ma una rotazione che è prevista dalla programmazione ordinaria. Questo è. E che viene comunque concordata e concertata con loro. Tutti auspichiamo che si possa al più presto aprire la dirigenza breve. Certo che in questo momento, in cui di fatto 13 sali maggiori non funzionano, aveva anche poco senso tenere un settore con 5 pazienti e un altro settore con 5 pazienti. In questo modo ci sembra anche più ragionevole. Però è chiaro che la situazione è costantemente monitorata, per cui nel momento, diciamo, questi posti letto non siano sufficienti a soddisfare le richieste della popolazione. Cioè, il giorno dopo si può tornare, diciamo, è più un aspetto organizzativo, ecco, gestionale. Si può tornare sicuramente alla situazione precedente. È chiaro che fino a gennaio la situazione si può pensare che possa rimanere questa, anche perché normalmente a dicembre, anche negli altri anni, si assiste a una rotazione. Noi speriamo davvero che dopo il 6 gennaio però si possa tornare a una condizione di normalità. Quello che interessa ai nostri ospedali, devo dire, è che interessa a tutti gli ospedali della provincia. Diciamo che la carenza di anestesisti è stata un po' ripartita su tutti gli ospedali. Tutti gli ospedali hanno assistito a una riduzione, in modo che in tutti gli ospedali rimanesse però anche un minimo di attività. E di fatto su tutti gli ospedali stanno dando, diciamo, la priorità ai codici A, che sono quelli più importanti per le patologie più importanti, insomma. Tutti noi auspichiamo che sia una situazione transitoria alla quale si trovi presto un rimedio, però, insomma, preoccupa tutti, giustamente. È un'integrazione. Noi abbiamo girato a tutti i consiglieri, ma anche al gruppo Insieme per Sant'Anna, i dati che sono stati forniti nella riunione del gruppo. L'ho mandato alle mail di tutti, non so... Non lo abbiamo mandato a tutti i consiglieri, per cui è stata inviata sabato in contemporanea. Adesso facciamo alcune verifiche. Comunque, adesso lo verifichiamo perché l'abbiamo mandato. Non lo so, devo sentire l'Antonella che l'ha mandato. Io ho dato disposizione di inviarla sulla PEC. Sulla PEC non è arrivata, non tramite PEC, tramite mail. Tramite mail, comunque. Recuperiamo domattina, chi non è arrivato la rinviamo di nuovo, perché lì ci sono tutti i dati dell'attività dei singoli reparti, perché così vi potete rendere conto, ma la caricheremo anche sul sito internet del Comune, perché stiamo aspettando l'ok, dove ci sono appunto reparto per reparto, i numeri delle attività svolte. Poi il gruppo insieme per Sant'Anna l'ha già vista, però volevo che l'arrivasse prima ai consiglieri, quindi è stata inviata ai consiglieri. Però comunque recuperiamo la svelta a questo disguido, perché lì si vede chiaramente che non è un disimpegno, ma le sale operatorie lavorano fino alle 5 alla sera. c'è un'attività in aumento, per cui compatibilmente sempre con la reparto dei medici, però l'impegno c'è e quello che ha detto Carlo è vero, cioè stiamo impegnati per far mantenere questo, però è necessario guardare quei dati lì, perché ci sono anche i laboratori specialistici, cosa sono, cosa fanno, quanti ne fanno e come vengono gestiti. Quindi recuperiamo domattina con Antonella questa situazione. I dati del programma Sant'Anna Plus dell'incontro non li ho ancora verificati, non li ho ancora letti, perché appunto sono arrivati sabato. Per quanto riguarda le risposte, erano già state poi anticipate, anche tramite stampa comunque, ne prendo atto e spero di, come ha detto Sabrina e la consigliera Fiori, che nell'anno nuovo effettivamente questa situazione venga proprio risolta definitivamente e che si possa far fronte proprio alla mancanza degli anestesisti a questo punto, se no ci risentiamo quindi nell'anno nuovo per questo aspetto di queste interrogazioni riguardo la sospensione del servizio dei letti di decenza breve. Grazie. Bene.